Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Come sapete non parlo mai di calcio, ma stavolta mi sono voluto mettere alla prova. Ho 33 anni e non ho mai condiviso con i miei amici la passione per il calcio. Perché, non lo so, forse non sono mai stato convolto al 100% da questo sport, amato da tantissimi appassionati in tutto il mondo. Cercherò di appassionarmi a questo sport in pochissime ore. Venite con me. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi farà strano vedermi fuori casa, fuori dalla mia comfort zone. Perché oggi sono al Villaggio degli Azzurri, precisamente a Milano, in Porta Nuova, Piazza Gaulenti. La missione di oggi è imparare qualcosa sul calcio. Sapete che sono un novellino, ma grazie a Lisa avrò l'opportunità di imparare tantissimo su questo sport e di farmi appassionare. In pochissimo tempo sarà la sua missione. Ragazzi, lei è Lisa. Lisa mi spiegherà tutto sul calcio, perché io a 33 anni non posso essere un novellino. E 33 anni e di calcio cosa che sai? La parola? So che c'è il fuorigioco, ma non so quanto è il fuorigioco, ma so che c'è questa roba che si chiama fuorigioco, ma non ho mai capito. Quindi il mio livello di sapienza calcistica è molto basso. Grazie a Lisa. Oggi? Siamo a Milano e quindi si dice che pensi di? Che pensi tu? Mi. Il nostro e quanti italiani. L'ultimo trionfo è stato? Ma l'Europa è del 2020. Bravo. Perché c'è la coppa. Questo parola l'abbiamo detto all'Europa. Praticamente. Qualcuno non lo conosce. Quante ore? E uno ce l'abbiamo. Questo è barello? Barella. Barella. Tu hai la fobia di qualche animale, lo sai? Piccolino. Molte la via. No, con la punta luga. Topo? È. Turale. Topi? Un altro motivo per dire i topi. Ratti. Verratti. No, no. No, non è ratti. Verratti. Ah, verratti. Quindi verratti, la. C'è del materiale su cui lavorare. Ok, teoria fatta, accantonata. Passiamo alla pratica. Come si calcia un pallone? Con i piedi. E fin qua. L'obiettivo qual è? Fare canestro in uno dei due carrelli. No, piano, piano. BAM, distrutto il carrello. Scusate, vago io dopo. Dai, secondo tentativo. Però devi dichiarare il carrello. Questo qua a destra. Quello di destra, vai. Attenzione. Grandi miglioramenti in vista. C'è tanto da lavorare ancora. Sì. Novellino. Eccomi, eccomi. Allora, qual è il modo più semplice per insegnare il calcio? Il bigliardino. Il calcio balilla. Esatto. Allora, a calcio si gioca con i... Piedi. E con i... Ah, i giocatori. Con i giocatori. Giocatori. E sono divisi in... Amici, parenti. Ruoli. Ruoli. Ce l'abbiamo. Quali sono i ruoli? Portiere. Difensori. Questi sono cinque. Sono i... Supereroi. Se stanno al centro del campo... Sono di centro. Campisti. E poi abbiamo... Gli attacchanti. Che devono? Attaccare. L'attaccante più comodo li conosci? E Ronaldo. Bravo. Pistiano Ronaldo. No, è centocampista. No, 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 no. Qua domanda da 100 mila euro. Chi è l'attaccante della nostra nazionale? Della nostra nazionale? È morto? No. No. Dorme. Quasi. Dormiente. No, gioccio gli occhi aperti. Come sono? Paralizzata. Quasi, quindi? Ferma. Brava. Immobile. Bravo. Ce l'abbiamo fatto. Qual è il tuo modulo preferito? Cioè, TFR che si paga le state. Come lì no. Nel calcio. Ah, i moduli sono praticamente come vengono sistemati i giocatori. Quindi facciamo un 4-3-3. Cos'è un 4-3? 4 sono i difensori. Ah, difensori. Quindi 4 difensori. Ah, quindi 4 difensori. Ah, quindi 4-3-3. 3 centrocampisti. Ma che sterdi. Cosa sono gli assist? Passi la palla per fare i gol. Qualche stupenda? Passo la palla. È il passaggio primo del gol. Concludiamo con la domanda principe. Cos'è? Il fuorigioco. Non ho mai capito il fuorigioco. So che fischia l'arbitro perché hanno fatto qualcosa di male. Quando l'attaccante supera l'ultimo difensore, quindi è al di là della riga dei difensori. Ah, quindi ok. L'attaccante, per semplificare, è in fuorigioco. Questo sport è complicatissimo, ma molto bello. Ci sono delle regole, ovviamente, che vanno rispettate. Le sto imparando piano piano. La domanda è, perché il calcio ha così tanti appassionati, appassiona così tanti italiani? Andiamo a chiederglielo. Perché amate il calcio? È la mia appassione. Mi diverte. Ti diverte. A me è più che il calcio stesso, come proprio quello sport, che comunque è bellissimo. Mi piace l'attima sfera. E poi c'è anche la soddisfazione di vedere la squadra che non ti fissa la sconfissa. Leggera questa, ma la cosa che ti piace di più del calcio? È risultare quando fanno gol. Insomma, quando ci sono i giocatori forti che fanno delle belle azioni. È un piacere. Anche per te? Sì, ma anche aggiungo anche il fatto di riconoscersi sotto la stessa squadra. Qui l'atmosfera che crea il calcio, la cosa fondamentale che crea il calcio, che ci stanno dicendo tutti, è l'aggregazione. Il gruppo. Il gruppo. Vedere le partite con gli amici. Il portiere. Perché il portiere? Perché salva i risultati. Novellino mio. Ci siamo messi alla prova con i piedi. Adesso lui, mio amico Joyce. Sì. Ci sfidiamo. Ok, ok. Italia contro Italia, maglietta. Azzurra. Non è la tua. Che modulo vuoi usare? 4-3-3. 4-3-3 è il modulo offensivo di prima. Gioca partita. Saranno i sei minuti più lunghi della mia vita. Ma tu non stai giocando. No, no, voglio vedere come ti muovi. Eccolo lì, ragazzi. Eccolo lì, ragazzi. No, bellino, quante sono smacolazioni. Oddio. Oddio, perché ci si fa la cosa? Ma è quello che recupero palla. Eccolo lì, ragazzi. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Ma tu è più veloce. Perché mi rompere? Eccolo sul secondo palo. Vai, vai. Fallo uscire di nuovo. No. È svenuto l'attaccante? Ma sì, devi stare tranquillo con me. No, rigori. Allora, quando la partita finisce un pareggio, prima ci sono i supplementari e poi i rigori. Facciamo i supplementari. Vai, facciamo, vai. E va solo una rumba. Ma lo sposti te. Eeeh, il nove tiro è ancora volto per imparare. Abbiamo fatto la pratica. Pratica. Sia con i piedi che con il joystick. Adesso siamo stremati. Porti, sì. Siediti. Mettiti comodo perché tu sei passato dal non sapere che avesse vinto l'ultima Coppa del mondo. L'Argentina. Buonissimo, a sapere cos'è il fuorigioco. Gioco, sì. Qua dietro. È il momento di vivere il calcio. Perché tutti siamo appassionati di questo bellissimo sport? Adesso ti faccio vedere cosa significa vivere l'atmosfera del prepartito. E allora guardiamoci gli azzurri. Senta vincere 2 a 1 l'Italia. Dai, regà. Eccolo lì. Eccolo lì, eccolo lì. Sì. Devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa. Mi sono paradossalmente appassionato al calcio più in queste ore, in queste pochissime ore insieme all'Ease Offside, al Villaggio degli Azzurri che in 33 anni della mia vita. Da oggi in poi penso che inizierò a guardare le partite di calcio da solo o in compagnia. Il calcio è un'opportunità per stare insieme. E io, come sapete, nella mia The House non faccio altro che coinvolgere i miei amici per passare delle bellissime serate insieme. E prima di concludere il video però voglio farvi una domanda personale. Vi piace il calcio? Se sì, che squadra ti fate? Ciao e al prossimo video. Ciao, 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 ciao!